Fine settimana all'insegna dello sport in centro storico a Teramo, grandi numeri per sport sotto le stelle sabato e grande partecipazione alla Strateramo domenica mattina, nel pomeriggio si è svolta la Maratona 4 Zampe. Sì esatto, il weekend sportivo per eccellenza della nostra città si è confermato come uno dei migliori in assoluto per presenza perché sport sotto le stelle nonostante il rischio pioggia ha poi riempito la città, è stata una delle manifestazioni più riuscite degli ultimi anni come sport sotto le stelle e poi chiaramente per continuare la domenica con la Strateramo e la passeggiata a Sezampe del pomeriggio della domenica. Quindi veramente un weekend pieno di presenze soprattutto legate allo sport ma legate anche a tanta solidarietà perché veramente in questi due giorni sono stati tanti fondi poi raccolti anche per varie associazioni. La Teramo Natura Indomita di quest'anno è stata meno ricca di grandi eventi ma quei pochi che ci sono stati sono stati veramente dei grandi eventi. Sì, in realtà se tiriamo dentro anche la Coppa Interamia che comunque è la manifestazione d'inizio di Teramo Natura Indomita probabilmente i grandi eventi sono stati anche superiori rispetto allo scorso anno quindi è chiaro che le elezioni hanno un po' condizionato, c'è stato un prima e un dopo le elezioni che hanno un po' in qualche modo condizionato l'organizzazione. Al Natale Teramano ci state però lavorando? Assolutamente sì, il Natale Teramano sarà il primo di questa nuova amministrazione ma ormai è un elemento vorrei dire quasi principale, cioè il primo che abbiamo messo in campo nel 2018. Quindi già fremano i preparativi, già nei prossimi giorni avremo degli incontri, ci siamo già sentiti al telefono con gli architetti, con tutti quelli che comunque sono al lavoro per far sì che anche quest'anno la città di Teramo possa stupire con le sue luminarie e con i suoi eventi.